In città senza la mia auto, e questo è il nome dell'iniziativa che ieri ha divertito in molti cosentini che hanno trascorso la domenica senza utilizzare l'auto. Il Comune di Cosenza ha aderito a questa importante iniziativa promosso dal Ministero dell'Ambiente e dall'Anci. Avviare un'attenta riflessione sui problemi legati al traffico e all'inquinamento. E' questo l'obiettivo di questa manifestazione che si è svolta in molte città italiane nell'ambito della settimana europea della mobilità sostenibile. Grazie al bel tempo l'iniziativa ha registrato la presenza di moltissimi cittadini e la bicicletta è stato il mezzo prediletto anche perché per questo evento sono state accolte a bordo dei pullman. In questa domenica di settembre Cosenza si è trasformata in una grande zona pedonale per la gioia di intere famiglie le quali sperano che questa giornata possa essere ripetuta al più presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.